Qui vi presentiamo le 5 migliori borse fasciatoio. Iniziamo! Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Iniziando la nostra lista al numero 5. LCP Kids Borsa Cambio Grande con Ganci Universali Passeggini. È una borsa multifunzionale dal design ricercato e dalle linee necessarie. Estremamente compatto ma allo stesso tempo capiente, è adatto a piccoli e grandi spostamenti. All'interno sono presenti numerosi scomparti, per ogni singola esigenza di trasporto. Il rivestimento del pavimento del cambio impermeabile è particolarmente grande. La tracolla facilmente regolabile ha un'ammortizzazione aggiuntiva per comodità. Ci sono anche due enormi offerte per tenerlo in. Passando al numero 4. Vada Bulle B043014 Borsa Fasciatoio Vintage Grigia, Tiffany. Questa versione mira a garantire una sicurezza ottimale. Il fondo è largo oltre che piatto, consentendo quindi di riporre comodamente la borsa senza il rischio che si pieghi. I 4 antiscivolo in plastica lo mantengono saldamente all'esterno. Ampia oltre che comoda è l'apertura con doppia zip. La borsa può essere arrotolata a spalla o a mano, grazie ai suoi manici, per maggiori informazioni. Guarda la descrizione sotto il video. A metà della nostra lista al numero 3. Borsa Fasciatoio per cambio del pannolino del bambino. La borsa ha 4 scomparti esterni con cerniere, per mantenere a portata di mano tutto ciò che è prezioso per il bambino. Ci sono inoltre due scomparti interni e una sezione centrale con chiusura a zip su entrambi i lati. C'è un cuscinetto flessibile, leggermente più grande della dimensione comune, per aderire al giovane mentre si espande. Almostat è top of our list at number 2. Inglesina Mi Baby Bag Borsa Fasciatoio. Grande e anche resistente. Questa borsa è dotata di vari scomparti, costituiti da una tasca porta oggetti laterale termica, oltre a includere un tappetino da viaggio imbottito e anche pulibile. È presente anche una comoda tracolla regolabile in lunghezza, completa di ganci per il collegamento alla gestione della carrozzina o del passeggino insieme a una WP a custodia per facilitarne il trasporto. E infine il numero 1 della nostra lista. Borsa Fasciatoio per pannolini, vestiti per bambini. Ha 9 tasche che ti permettono di portare una miriade di cose nell'ordine ideale. Lo scomparto principale con chiusura a zip di sicurezza è affiancato da 2 tasche laterali per conservare contenitori o piccoli impatti individuali da tenere sempre in mano. Due enormi tasche esterne sono costantemente preparate per adattarsi agli indumenti umidi, mantenendoli completamente separati dal resto. Infine, ci sono 2 aree complessive, per ogni sim per maggiori informazioni. Guarda la descrizione sotto il video. Grazie per aver guardato il nostro video. Per più. Iscriviti al nostro canale.